Andiamo con quelli che sono i lavori consigliari di questa odierna seduta del Consiglio Comunale esaminando quello che è il primo punto all'ordine del giorno ed esattamente la lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti e quindi cedo la parola al segretario che possa passare alla votazione per anche essa in modalità palese e rappello non è valutato. Prego. Allora, che favorezione dei verbali della seduta del 19 gennaio 2021? I verbali sono 3, 5 e 6. Allora, Pitta, Di Carlo, Battista, Sì, favorevole, Coccia, Favorevole, Ciro, Favorevole, Polucci, Pasquale, Sì, 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 Matera, Sì, favorevole, Cavaglio, La Vecchia, Sì, Checchia, favorevole, Conte, favorevole, Barbaro, favorevole, Che Maio, Che Maio, Che Maio, Che Maio, Preziuso, 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 favorevole, Aquilano, Favorevole, Niro, favorevole, Abate, favorevole, Davide Colucci, favorevole, Dell'Aquila, Antonio, Favorevole, Giannantuoni, Favorevole, De Sabato, Favorevole, Ventrella, Sì, Buonavittacola, Sì, Battista, Francesco, Francesco, russo favorevole ok, a una di metà che senso Gianni? non so che ho fatto un museo allora qua c'è la ricerca grazie a tutti